Ciao Screen Geekers, volevate il pesce d'aprile? Eh no, mi dispiace, è solo un'altra notizia croccantissima però, specialmente se vi piacciono le serie tv anni 90, perché durante un'intervista l'attrice Melissa John Hart, meglio conosciuta qua in Italia come Sabrina, ha dichiarato che presto si terrà alla riunione per discutere di un possibile reboot di una delle sue serie più famose degli anni 90. La serie originale, basata sul fumetto Sabrina dei Teenage Witch, ha ben sette stagioni ed è andata in onda dal 1996 al 2003. Ultimamente la moda revival delle serie tv anni 90 è alle stelle, basta vedere che comunque spuntano progetti da tutte le parti, come per esempio Xena, Baywatch, Twin Peaks o anche la più recente X-Files. Di Sabrina però ancora nulla di completo, si tratta solo di supposizioni, ma secondo voi come dovrebbe essere la nuova serie di Sabrina vita da strega? Magari potrebbe parlare di lei da adulto oppure, non lo so, di sua figlia. In ogni caso, io adoravo Sabrina, quindi se faranno questa serie sarò solamente che contenta. Voi mi raccomando, continuate a seguire screenweek.it e scaricate l'applicazione. Noi ci vediamo come sempre qua. E mi raccomando, attenti ai pesci d'aprile. Ciao! 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 Grazie a tutti.